Ti chiedo come ti chiami? Dennis. Perfetto. E da quanto tempo cercavi casa? Inizio stanza diciamo dai. Quindi hai visto molti immobili? Molti immobili. Sempre tutti qui in zona? Sì, diciamo la zona è sempre rimasta la stessa. Ok, hai girato anche con tante agenzie? Poche. Poche. Come hai fatto ad arrivare da noi, ad Abita? Perché a parte che è vicino a casa dei miei, quindi è lì. In più ho anche consigliato la mia zia che comunque si ha un appartamento in affitto tramite voi, quindi anche per conoscenze. Questo me ne ero perso. Perfetto. Come ti sei trovato? Bene, molto bene. Andato a studere. Perfetto. Qual era la necessità che avevi quando cercavi in casa? Qual era la problematica che dovevi riuscire a soddisfare? Il giardino, che sei riuscito a incastrare anche quello e diciamo una tempistica che anche quello si è riusciti a soddisfare. Bene. Quindi sei stato comunque soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto noi come agenzia? Certo. La consiglieresti a qualcuno di poter tornare, di rivolgersi a noi? Certo. Perché no? Diciamo cos'è che ti ha colpito, c'è qualcosa che ti ha colpito, che ti è piaciuto, di quello che sono stati i rapporti con l'agenzia? Che insomma l'agenzia vi incontra giustamente ai problemi e l'esigenza del cliente e quindi si cerca di trovare un proprio fumone che vada bene entrambi e io questo l'ho trovato, quindi sono trovato bene. Bene, mi fa piacere e a posto. Grazie. Tu sei stato estremamente semplice, hai visto? Grazie. Grazie a tutti.